Ciao a tutti, sono Maria Cosessiri e mi trovo qua nel foyer del Maggio Musicale Fiorentino per le prove di Hernani. È il mio debutto, sono qua per debuttare Elvira in questa meravigliosa città che amo e che mi ha visto fare tanti debutti, quindi uno in più vi aspetto numerosi dal 10 novembre.